La polvere che si stacca viene raccolta da un sistema di catene da scarpe che lo raccogliano e vanno a riempitare una coppia che si fa. E' un'altra cosa che viene, quando è fermato il contenitore, facciamo a voi, quando uno è pieno, la polvere si viene, in particolare, in particolare, in particolare, se vai, viene presentata con aria compressa e poi un gioco di balli e balli nel giro di stoccaggio, ci sono due stoccaggio, due stoccaggio, due stoccaggio.